Stasera ho parlato di tre libri che sono stati per me fondamentali sia come ispirazione a scrivere sia come continua interrogazione di quali sono i motori e le questioni che animano la mia scrittura. Il primo è Lo stadio di Wimbledon di Daniele del Giudice, che è stato uno degli ultimi romanzi scelti da Italo Calvino, è la storia di uno giovane scrittore che per iniziare a scrivere il suo romanzo va sulle tracce di colui che è lo scrittore che non ha mai scritto nulla, Bobby Batslin, colui che è stato un intellettuale, l'anima culturale dietro la casetta di Striccia Delfi e dietro molti dei libri che arrivano dalla grande letteratura dell'est Europa e che sono arrivate a noi tramite quel luogo di confine che era Trieste. E la storia di questo libro è una continua interrogazione sul perché Bobby Batslin non ha scritto o meglio sul perché ha scritto così poco in modo così sotterraneo, laterale, è stato così attorno alla scrittura da farci capire che per lui la scrittura era una questione centrale e che quindi non avrebbe scritto. E quindi un inizio un po' contraddittorio, partire dal perché non si scrive. E però quel libro è stato per me un'entrata soprattutto su una geografia, su una geografia che è quella della città di Trieste, che è stata la città dove Batslin è nato, la città con cui ha sempre avuto un rapporto controverso, da cui se n'è andato, per poi tornarci di nascosto senza farlo sapere a nessuno. Ed è una città che io ho conosciuto tramite quella chiave d'entrata e che è diventata poi uno dei principali motivi della mia scrittura e motori delle mie storie. Non tanto come senso di trama, anche se poi quasi tutti i miei libri, anzitutto forse i miei libri hanno un punto preciso di caduta a Trieste, però per le questioni che si trovano in quella città, nel suo essere geograficamente un luogo di confine, dove il confine tiene insieme l'attrazione per lo sconosciuto, ma anche la paura, la voglia di non risolvere le contraddizioni in un'armonia, in qualcosa di comprensibile, di semplificato, anche se vogliamo, di non includere in qualche modo, ma di lasciare una differenza sempre aperta, che è come qualcosa che ci cammina a lato ed è sempre lì, un fuori in cui possiamo sporgerci per respirare, però a volte anche per metterci in questione, per spingerci a muoverci e non farci sentire troppo a nostro agio nel posto dove siamo. E quindi un libro che essenzialmente ha dato a me quella scintilla che è sempre la questione del divenire, del divenire a qualcos'altro, dell'essere in movimento, del tracciare una linea che vada da qualche parte, per fuggire, per tornare, non importa, però nel non fermarsi, non immobilizzare, andare alla ricerca di qualcosa. E quella ricerca poi è continuata fino a un secondo libro di cui abbiamo parlato questa sera, che è Giardino Cenere di Danilo Kish, che è per me uno degli scrittori contemporanei più importanti, uno scrittore che semplificando possiamo dire della ex Yugoslavia, ma che stiene in sé tutte le contraddizioni del mondo balcanico, perché viene da una madre montenegrina, da un padre ebreo-ungherese, e la sua storia, la storia di qualcuno che è cresciuto in una faglia, che scrive in serbo, anche se gran parte della sua infanzia l'ha passata dentro l'ungherese, quindi ha iniziato a scrivere in una lingua con cui non aveva una familiarità dall'infanzia. E tutte queste questioni, che sono questioni che tornano spesso nella letteratura dell'est Europa, hanno lavorato e lavorano in qualche modo dentro tutte le cose che io scrivo, e continuano a pormi delle interrogazioni che arrivano fino a quella interrogazione che parte da Bobby Bustlin, cioè se sia più importante saper scrivere o saper vivere. Lui spesso si divertiva più a creare della vita tra i suoi amici reali, complicandone le vite, piuttosto che a crearla in dei propri personaggi, in dei propri mondi di scrittura. Arriva poi però fino all'ultimo libro di cui abbiamo parlato stasera, che è Tony Kruger di Thomas Mann, che è un libro che secondo me risponde alla domanda più difficile per uno scrittore. Dove mi sito quando scrivo? Sono un artista, un poeta maledetto, un qualcuno che fa una vita dissoluta, sviata, al di fuori delle regole, o sono un buon borghese? È una questione che ha anima a Tony Kruger fin dal suo nome, lui porta traccia di questa contraddizione. C'è l'anima asburgica tedesca dei Kruger, ma c'è il nome latino che tiene dentro tutta la sensualità, l'esotismo, l'eccesso. E forse quello che lui ci dice alla fine è che se c'è una posizione in cui lo scrittore deve stare è quello di lasciar vivere le contraddizioni, esattamente l'insegnamento che è arrivato a me dallo stare sul confine, il lasciarsi che una cosa non si risolva mai nell'altra, il non sentirsi mai definiti o risolti e non voler nemmeno trovare nell'altro una definizione, un incasellamento che corrisponde sia a una volontà di dare una forma troppo precisa a un carattere, oppure di trovare delle parole standard, ferme, ma tenere sempre la lingua e lo sguardo in un movimento che cerchi di cogliere quanto più possibile dei dettagli che non immobilizzino ciò che noi raccontiamo, quindi alla fine la vita in qualcosa di dato stabile e definito per sempre. Grazie a tutti.